Ciao amici di Nexus Lab, sono Alessandro e abbiamo qua di fronte a voi l'ASUS Padphone il nuovo smartphone della casa taiwanese come potete vedere andiamo subito nelle caratteristiche tecniche quelle che ci interessano sin dall'inizio abbiamo Android Ice Cream Sandwich 4.0.4 visibilmente non è molto cambiato a livello di interfaccia rispetto all'interfaccia soft però abbiamo diversi elementi distintivi a livello strutturale l'ASUS Padphone è piuttosto leggero, siamo sui 130 grammi non abbiamo elementi metallici però forse questi elementi metallici nella cornice sono simulati da delle plastiche molto ben fatte andiamo adesso a vedere le caratteristiche di questo Padphone a livello cinematico ok la camera è uno degli elementi distintivi di questo Padphone infatti abbiamo una fotocamera da 13 megapixel accompagnata da flash LED in più abbiamo una capacità di riprendere video a 720p cioè in HD Ready a 60 fps al secondo proviamo ad andare nelle impostazioni come potete vedere ci sono molte impostazioni, abbiamo questo focus sullo Zero Shutter Leg ovvero la possibilità di scattare più scatti consecutivamente con lo stesso telefono in grado quindi di superare addirittura gli scatti in velocità sia dell'S3 che del One X abbiamo un processore Quad Cortex a 15 classe 1.5 GHz di frequenza e 2 GB di RAM questa è la station cambiata rispetto alla precedente come possiamo vedere facciamo uno switch automatico come succedeva già nello scorso station proviamo ad aprire un'immagine facciamo vedere come funziona lo switch automatico si attiverà automaticamente l'ultima funzione che avevamo attiva stessa cosa quando tiriamo fuori il cellulare naturalmente condivide l'hardware e condivide anche il fotocamera e tutto il resto display da 10.1 pollici IPS 1280x800 pixel come potete vedere adesso apriamo un video audio piuttosto buono come appunto in conferenza ci è stato detto anche se adesso siamo abbastanza con problemi di rumore quindi non possiamo confermarvi la buontà ci aggiorneremo poi in futuro